Perchè fa figo e perchè tu hai 0014 perchè hai il doppio di 007 ragazzi No I have x I have x I have x C'è il cazzo di clown Molestatore Ah sprint Sì peccato Non si prendi esatto Uh close Uh peccato brava Ok l'ho baitata E si va di tec Noi degli anni 96 hanno da buttare ormai Io sono nel 96 Tecnicamente io sono più vicino ai 2000 La cosa mi preoccupa tanto Adopto lo spirito Flauto Arrugginito verde E il nastro per capelli giallo Usiamo pop qua Mi sono proprio reso quanto fosse vicino a fare il save Due gampati insieme Diamo il potere per ferire perchè ci mettiamo un po' meno a ricaricarci Uh non c'è l'ho da peccato Nice Non off the record Quelli si stanno resettando dentro main Ds ce l'aveva però Non è inutile ds però Non molto utile questo ds direi E io però Allora la cosa positiva è che questo genno ormai è quasi regredito del tutto No non voglio andare lì Voglio andare qui Ok Oh salve Volevo mettere un portale Ma Fatelo che ho visto Perché avete un po' i miei piani Allora calciamo qua Sto andando a save Andiamo per lei Ed è un hook Pannelliamo ne una a sto punto Il god è già andato vero si Ottimo Crazy Blocchiamo con bamboozle Blocchiamo con Spero di racconto Allora Lì Ok. Torniamo indietro. Era un free hit, tanto voleva prendercelo. Anche perché prendiamo un po' di value da questi portali così. Usati così sono buoni i portali. Anche perché volevo vedere con pop, perché avevo ancora pop tra l'altro attivo. Ok, mi hanno dato il portale, non è grave. Ho visto uno andare qua in fondo. Questa giga è incastrata. Bravo. Ok, adesso save. Però siamo messi bene. Con uno morto già iniziamo a prenderci value, tenerne sempre uno sull'uncino. Diamo un bel po' di pressione in questa maniera. Non è per niente male così come siamo messi. Siamo qui in un altro portale, l'ultimo. Ci sono resettati, ho visto uno lì, quindi anche l'altra sarà qua. Per far prima, anche se ha le dardo o simile, almeno vi lo togliamo un instant. Dovevo avere DS? Anzi, è probabile che abbia DS perché lui era l'ossessione. Anzi, 99% ha DS, esatto. Perché lui all'inizio partita Era l'ossessione Questi di essi Mi stanno facendo un po' ribrezzo Devo essere onesto poverini Adesso continuiamo main e Shaq Perché sono i due gen che mi preoccupano un po' Io non credo l'abbiamo iniziato Main è a posto Nessuno che fa rumore E verso questo è un atto per sicurezza Non è che lo sapevo Shaq Non è che questo l'hanno iniziato A questo punto O si calci Save E c'era qualcuno qui ok Andiamo a chiuderla a chiuso di lui se riesco Sarebbe top Avrà dei dard Di essere aggiosato Quindi lui è morto O 7 Il problema è la Niam Chi è che non ha ancora preso Mi sta proprio la Niam Perché è ancora Grimm in brezzo al massimo Mi serve la quarta stack di Grimm Ok Qualcuno era qui ancora Il corso di conia Ok Voglio controllare Quello già è lontano Però Shaq 4-9 Ed è anche ferito Ottimo Abbiamo anche pop Balance Ma non c'è Oh E c'è C'è Nata Se lo caricavo un po' di più Non è M1 Io che sono vecchio da quando ne ho 16 Che vuol dire Quindi Snake È tipo il mio Bis 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 Non Che cazzo state dicendo Ma io mi distrago un attimo In partita Leggo in chat Cose che non stanno Né in cielo Né in terra Quindi che hanno cambiato Il nuovo killer L'hanno potenziato un po' Gabbo Gli hanno potenziato il Vix Praticamente Quando colpisce col potere Aumenta di 6 secondi La durata Dell'indebolimento Ah no Era lei che mi mancava Per Per il coso La memoria della mia sessione Correre 4 Ho giocato Ai mercenari con un mese Non toccavo il gioco La testa di più più Con un vescarello Felicio Ho mai giocato La modalità mercenaria Ma non è per me Non è il mio tipologio Di modalità Tipologia Ho detto T-Giologica Cazzo ho detto Raga Gli hanno tolto la logica Sì esatto Gli hanno tolto la velocità Ciao Vinci Buonasera caro Come stai? Potevo zonarla meglio Un po' sbagliato Sì hanno fatto un paio Di cambiamenti Però ci sta Quello lì era troppo Secondo me L'avevo detto Che era proprio rotta In quel caso Belli dart Trovo la botta Trovo la botta Non ci posso fare molto La zoniamo da questo lato Però Questo giro Nice Ciao cavolo Se l'ho già scannato 15k Di beta Qualcuno Come ieri No oggi Non ancora Mi spiace Chissà cosa vedono loro Se vedono effettivamente Perché mi giro a 300 All'ora Perché in questo momento Faccio così letteralmente E faccio 12.000 giri Mi fanno se mi flammano Per il tunneling Se neanche se dopo lunedì Non mi vedi in chat Sai cosa è successo No non lo so Il tunneling esatto No 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 Grazie a tutti.